Il mio obiettivo sarà, in linea col sindaco della città metropolitana, così come anche lui ha dichiarato e ne faccio un mio obiettivo, quello di far sì che la cultura e il turismo viaggino in sinergia, ma soprattutto creino un'industria del turismo e della cultura. Noi dobbiamo ricrearci, dobbiamo evolvere con una nuova identità, che è quella che già da qualche anno stiamo costruendo, hanno saputo costruire. Io voglio partecipare a questa nuova immagine del nostro territorio. È indispensabile la sinergia tra il capoluogo e la città metropolitana, è indispensabile la sinergia fra i progetti, ma è indispensabile anche cambiare proprio l'interpretazione che si dava alla cultura. Non è più qualcosa che appartiene solo a chi vive il luogo, ma è qualcosa che si deve trasformare in un'ottica di industria, industria della cultura e del turismo.